Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. La si smetta di invocare politiche di surplus di bilancio, cioè di rigore, perché lo abbiamo fatto per 30 anni e tali soldi, tolti alle famiglie, sono andati a pagare la quota per interessi speculativi, sempre crescenti. Che senso ha tagliare la spesa pubblica se si distrugge la crescita. Si presti molta attenzione alle lusinghe dei nuovi strumenti, delle nuove sigle europee, perché ci chiederanno di fare investimenti, ma di tagliare spesa corrente. Come dire che bisogna ristrutturare una casa, ma poi bisogna tagliare sulla spesa per il riscaldamento o il cibo della famiglia. Il divario tra surplus di avanzo primario accumulato e la spesa per interessi accumulati non può quindi ridursi per ragioni di matematica finanziaria. E mi fermo qui e commento la pillola di oggi. Sto dicendo che anche nei programmi elettorali sentirete parlare di mettere a posto i conti pubblici e vedrete che poi subito dopo le elezioni anche le promesse, gli slogan, passerà tutto in cavalleria. Perché? Perché siamo ricattabili, questa è la verità. Perché, come dicevo, l'avanzo primario è la differenza tra le entrate di uno Stato e le uscite di uno Stato al netto degli interessi e noi siamo tra i virtuosi, come spiego da anni su questa rubrica. Eppure ci continuano a dire di tagliare la spesa pubblica. E poi ci dicono di fare gli investimenti green piuttosto che innovazione tecnologica o le cose più strane, le sigle che voi leggete nel PNRR che è già morto vecchio. Ebbene, sono tutte follie. Perché è come dire che dobbiamo appunto ristrutturare una casa ma poi bisogna ridurre le spese di riscaldamento della casa o le spese per metterla da mangiare nel frigorifero. È una follia, è un modo di ragionare ormai quello dell'Unione Europea sclerotizzato su dei diktat che peraltro è stato dimostrato anche recentemente ormai. Gli studi del Senato, è uscita una pubblicazione recentemente, dice che i parametri dei trattati di Maastricht sono antiscientifici e soffocano la crescita. Ormai ci sono voluti 30 anni per capire quello che io dico da anni, ma ormai lo dice anche l'Ufficio Studi del Senato italiano. Quindi io ho semplicemente anticipato di alcuni anni dicendovi queste cose, delle cose che pian piano verranno alla luce. Oggi lo dice l'Ufficio Studi del Senato, domani lo dirà l'Ufficio Studi della Camera e prima o poi lo diranno tutti. Ecco, quindi qual è la soluzione? La soluzione ormai la sapete, è quella di economia umanistica. Se volete potete scrivermi al 351 821 9970, solo messaggi Whatsapp. Buona economia umanistica!